Musica Numerosi gli ucreni presenti domenica scorsa in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus. Siamo sconvolti, ha detto il Papa, chiedendo di supplicare Dio più intensamente per la pace in Ucraina. Per questo rinnovo a tutti l'invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in Ucraina. Una giornata per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino, per sentirci tutti fratelli e implorare da Dio la fine della guerra. Chi fa la guerra, ha aggiunto il Papa, dimentica l'umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi da parte di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana della volontà di Dio. La gente, ha detto ancora, come in ogni conflitto, rappresenta la vera vittima perché paga sulla propria pelle le follie della guerra. Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini. Sono fratelli e sorelli per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti. Francesco ha invitato a tenere in mente gli altri conflitti in corso in vari contesti del pianeta. Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina e non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Iemeni, Siria e Etiopia. Ripeto, tacciano le armi. Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza. Domandiamoci allora che genere di parole utilizziamo? Parole che esprimono attenzione, rispetto, comprensione, vicinanza, compassione? Oppure parole che mirano principalmente a farci belli davanti alle altri? E poi parliamo con mitezza o inquiniamo il mondo spargendo veleni, criticando, oramentandoci, alimentando l'aggressività diffusa? In un momento di crisi e tensione internazionale, Papa Francesco all'Angelus Domenicale ha esortato alla pace, sottolineando come questa si costruisca anche con il linguaggio. Il pontefice, nella sua catechesi sul Vangelo di Luca, ha messo in guardia dalle ferite che le parole possono provocare. Purtroppo, però, con la lingua possiamo anche alimentare pregiudici, alzare barriere, aggredire e perfino distruggere. Con la lingua possiamo distruggere i fratelli. Il pettegolezzo ferisce e la calunnia può essere più tagliente di un coltello. Un rischio, ha proseguito il Santo Padre, che aumenta ancora di più nel mondo digitale di oggi. Al giorno di oggi, poi, specialmente nel mondo digitale, le parole corrono veloci, ma troppe veicolano rabbia, aggressività, alimentano notizie false e approfittano delle paure collettive per propagare idee distorte. Il Papa ha proseguito la sua riflessione, ribadendo l'invito di Gesù a riflettere sul nostro modo di parlare, perché le parole che usiamo dicono la persona che siamo. A volte, però, prestiamo poca attenzione alle nostre parole e le usiamo in modo superficiale. Ma le parole hanno un pezzo. Ci permettono di esprimere pensieri e sentimenti, di dare voce alle paure che abbiamo e ai progetti che intendiamo realizzare, di venerire Dio e gli altri. Il Signore invita i cristiani a ripulire il proprio sguardo, perché, ha sottolineato il Pontefice, se non siamo capaci di vedere i nostri difetti, saremo sempre portati ad ingigantire quelli degli altri. Si tratta, in sostanza, di guardare gli altri come il Signore guarda noi, ovvero vedendo il bene e non il male. Si cambia l'ottica. Non si concentra sugli sbagli, ma sui figli che sbagliano. Dio distingue sempre la persona dai suoi errori. Salva sempre la persona. Crede sempre nella persona ed è sempre pronto a perdonare gli errori. Sappiamo che Dio perdona sempre. e ci invita a fare lo stesso, a non ricercare negli altri il male, ma il bene. L'Angelus di Papa Francesco è stato seguito anche a Firenze dai circa 60 vescovi e altrettanti sindaci provenienti da 20 paesi che hanno partecipato all'incontro promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Forum dei Sindaci del Mediterraneo. La Catechesi del Santo Padre è stata trasmessa in diretta sui maxi schermi allestiti in occasione della Santa Messa celebrata nella Basilica di Santa Croce, alla quale ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che ha concluso l'iniziativa segnato dalla firma della Carta di Firenze. Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, che ha preseduto la celebrazione, ha espresso l'augurio al Papa da parte di tutti i presenti per una pronta guarigione dal disturbo al ginocchio che ha impedito la sua partecipazione all'incontro. Nell'Omelia il porporato si è soffermato sulle immagini che Gesù utilizza nelle parabole, sottolineando l'esistenza di tre coppie, il maestro e il discepolo, la pagliuzza e la trave, l'albero e il suo frutto. Nel Vangelo questo gioco delle coppie è frequente, ha evidenziato, tanto che anche Gesù manda i discepoli a due a due. C'è dietro una sapienza, direi, tutta mediterranea che dovremmo imparare ad apprendere di nuovo, quella del confronto continuo. Anche la fede cristiana non è indottrinamento né autoconvincimento, ma soprattutto ascolto di chi ci ha preceduto e confronto con tutti i compagni di viaggio. Abbiamo bisogno di continuare a confrontarci col Signore e con gli altri, rinchiusi nella nostra solitudine come singoli, come chiese e come popoli, rischiamo di trovare soluzioni inappropriate se non dannose. L'invito della Cardinale Bassetti è stato dunque quello di seguire la strada fatta di comunione e fraternità intrapresa a Firenze e si è poi soffermato a riflettere sull'immagine dell'albero e del frutto. Gesù lascia intendere come si possa diventare un albero buono perché superando l'ipocrisia con l'aiuto del prossimo si può cambiare il cuore e seminare il bene nel mondo. Nel cuore, infatti, nascono l'odio e la fraternità. Per il Vangelo, il cuore, ovvero l'interiettualità della persona, si raggiunge grazie alle relazioni con gli altri e alle nostre stesse azioni che ci fanno da specchio. A conclusione dell'Omelia, il Presidente della CEI ha espresso il desiderio che il Mediterraneo possa diventare una cassa di risonanza del messaggio di fraternità, anche in virtù del fatto che è lo spazio geografico in cui il Vangelo ha compiuto i suoi primi passi. Possano i popoli del Mediterraneo essere testimoni per il mondo intero di una pace possibile, quella che parte dal cuore convertito al Vangelo e produce scelte per il bene di tutti. Una visita indimenticabile. Così Papa Francesco ha definito il suo viaggio apostolico in Iraq del marzo 2021, ricevendo in udienza nella biblioteca del Palazzo Apostolico i rappresentanti delle diverse chiese cristiane irachene. L'auspicio del Santo Padre è che il sangue dei numerosi martiri del Paese che hanno custodito la propria fede anche a costo della vita possano essere seme di unità tra i cristiani e segno di una nuova primavera della fede. Le vostre chiese, attraverso le relazioni fraterne che esistono tra loro, hanno stabilito molteplici legami di collaborazione nel campo della pastorale, della formazione e del servizio ai più poveri. Oggi esiste una radicata comunione tra i cristiani del Paese. Vorrei incoraggiarvi a proseguire su questa strada affinché mediante iniziative concrete un dialogo costante e ciò che più conta l'amore fraterno si compiano passi avanti verso la piena unità. Il Pontefice ha poi ribadito la necessità di curare le relazioni anche con le altre religioni presenti nel Paese e ha chiesto impegno affinché esse siano al servizio della fraternità ed offrano un prezioso contributo per costruire e difendere la giustizia nella società. Voi sapete bene che il dialogo interreligioso non è questione di pura cortesia, no, va oltre. Non è questione di negoziazione o di diplomazia, no, va oltre. È un cammino di fratellanza, protesso alla pace, un cammino spesso faticoso ma che specialmente in questi tempi Dio chiede e benedice. è un percorso che ha bisogno di pazienza e comprensione. Porsi in dialogo, ha osservato Francesco, è il miglior antidoto all'estremismo che è una grave minaccia per la pace ed un pericolo per tutti gli aderenti di ogni religione. L'obiettivo deve essere quello di lavorare per sradicare le cause remote dei fondamentalismi che proliferano più facilmente in contesti di povertà materiale, culturale ed educativa e vengono alimentati da situazioni di ingiustizie e precarietà come quelli lasciati dalle guerre. E quante guerre, quante conflitti, quante nefaste interferenze hanno colpito il vostro Paese. Il vostro Paese è un Paese vittima. E il suo bisogno di un sviluppo autonomo e coeso senza che, come troppe volte tristemente accaduto, venga danneggiato da interessi esterni. il vostro Paese ha la propria dignità, la propria libertà e non può essere ridotto a un campo di guerra. Nella giornata di venerdì scorso il Papa ha ricevuto in udienza l'Associazione Nazionale Alpini in occasione del 150esimo anniversario della Fondazione del Corpo. Nel suo discorso Francesco ha tratteggiato il servizio e l'impegno delle penne nere. L'esperienza centenaria della vostra associazione attesta che gli alpini si sono messi al fianco degli italiani nelle scenari più disparati. Non siete rimasti spettatori durante i momenti più difficili, no. Siete stati e siete coraggiosi e protagonisti del tempo che vivete. Il Pontefice ha poi evidenziato come la fraternità del corpo degli alpini si manifesti attraverso il servizio per gli altri e con gli altri. Traducete così nei fatti la fedeltà al Vangelo che spinge a servire i fratelli specialmente i più disagiati. Penso alla vostra presenza accanto ai terremotati e a quanti sono colpiti da calamità, al vostro sostegno nel realizzare infrastrutture per le persone fragili, alla vostra generosa disponibilità durante la pandemia. Una concretezza nel servire ha proseguito che è anche testimoniata dalla presenza di quattro beati che hanno incarnato il messaggio di Gesù all'interno del corpo. Vi incoraggio a rimanere ben attaccati a queste radici forti per continuare a portare il frutto delle situazioni attuali. Così non verrà meno nella società l'esempio di fraternità e di servizio proprio delle alpini esempio di responsabilità civile e cristiana. Un cammino di altruismo che prosegue da oltre 100 anni ha continuato il Santo Padre che ha poi sottolineato come non si sia alpini per se stessi ma per gli altri e a questo proposito Francesco ha evidenziato il senso di altruismo e fraternità che hanno caratterizzato il corpo nell'obiettivo di allargare la famiglia. Oggi nel soffocante clima dell'individualismo che rende indifferenti molti c'è bisogno di ripartire da qui di ritrovare l'entusiasmo e di prendersi cura degli altri. È importante la vostra testimonianza questa testimonianza storica e attuale. di l'individu di l'individu di l'individu Grazie a tutti.